Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Matt e oggi volevo presentarvi il mio nuovo canale YouTube dove parleremo di computer, gaming, tecnologia in generale e effettueremo alcuni unboxing. Volevo un volta ringraziare tutti quelli che vi hanno subito su questo video, su Instagram e mi hanno supportato in questi giorni chiedendomi anche di fare questi video su YouTube. Ci vediamo al prossimo video, ciao!